Stavo leggendo un po' di notizie, random, Lukaku, e ora la gente lo offre in giro per l'Europa ma nessuno se lo prende, ma che fine da pirla che hai fatto, ma perché sei così pirla? Ma che cazzo di problemi hai? Cioè io non capisco che cazzo di problemi hai? Ma che cazzo di problemi avevi? Non lo so, poi Simone ha chiamato Pavard già e gli ha detto, che cazzo gli ha detto? Cosa ti ha detto Pavard? Adesso lo voglio questo qui eh, basta adesso, Amar si dice ok ma adesso la voglio. Miche è pure figo questo, tutti i figli che mi vengono con noi. Sorteggio Champions 31 agosto, Fabian, l'Inter crede nel ragazzo, Fabian, è un bel cacciotonino. E poi c'è un ragazzo, c'è un ragazzo dicono che è molto forte, non so come si chiama questo qui, di colore? Correa forse riusciamo a levarlo dai coglioni per 15 milioni, dai dai dai, come Gagliardini e compagnia, dai dai, dai Dio buono dai, 15 milioni, 15 milioni, via 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 via, la svolta di Correa, 15 milioni, dai 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 dai, 15 milioni a titolo definitivo, lascia e se lo dice Pedullà, Pedullà è quello che io ammiro di più, il Pedullà, 15 Correa, niente, a titolo definitivo a 15 milioni, può lasciare l'Inter, dai dai dai, vai via tutte queste figurine in campo, non ci servono, sono solo figurine, figurine dai dai dai, facciamoli fuori, dai dai, tutte queste figurine in campo, si, gli sbagli si fanno, e vabbè, però si recupera, dai, via, via, ciao stelle